Oppure gli altri, pronto? Sì, pronto, ciao, sono Simona Simona da dove? Sono da Padova Simona da Padova, giochi in casa, magari te le vieni a prendere tu sti 2000 euro Cos'è che dice la ragazza in questione? Bacco Bacco? Bacco Guarda, aspettiamo una verifica Usiamo una verifica Perché non voglio essere io quello che comunque spegne un po' gli entusiasmi delle persone Però vabbè, diciamola Non dice Bacco Non dice Bacco Anche se Ti dobbiamo salutare Ciao Anche se si è avvicinata Perché comunque Bà, Bà Abbiamo detto che Bà è giusto Abbiamo detto che anche che è una parola dolce Abbiamo detto che anche nella sua forma commestibile è dolce Mettiamola così Quindi per tutti quelli che vogliono provare a telefonare Dovete semplicemente chiamare uno dei due numeri In questo momento Le dico io perché ho il sorriso Sì 899-411-454 899-35-4506 Allora posso prendermela con l'operatore che è un uomo e mi mette lo smile triste? Ma ti chiamano tutte le donne Almeno il sorriso Appunto, mi serve a me il sorriso Sto chiamando le donne Quindi invitiamo un uomo a telefonare in questo momento Per parlare appunto con Elisa Che ha sto sorrisone insomma da mostrare a tutti quanti Voi se volete avere la possibilità Noi ve la stiamo dando Quella di parlare con uno di noi due O parlare con entrambi E capire soprattutto cos'è che dice questa ragazza Cos'è che dicono queste labbra È una parola Abbiamo dato degli aiuti Abbiamo detto che è una parola dolce Abbiamo detto che si può anche mangiare Abbiamo... Si può mangiare in due forme tra l'altro In due forme Detto che è una parola che piaccia se vogliamo un po' a tutti Soprattutto nel lato sentimentale Toh, buttiamola così Vogliamo dare un altro piccolo aiuto E qui ci stiamo veramente svenando Lo diamo? Diamo questo piccolo aiuto Sono cinque lettere Pronto? Pronto, ciao Ecco il tuo nome Ti senti? Si, ti sento Qual è il tuo nome? Roberta Roberta di dove? Di Grigento Roberta di Grigento La domanda è semplice Cosa dicono queste labbra? Roberta Ballo Vogliamo darla a noi la risposta? Faccio io lo smile triste Roberta Non è giusto Ci spiace Sarà per la prossima volta Ok, ciao Ciao Roberta Ciao Roberta Ma che mi viene meglio me lo smile triste Comunque Vabbè 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 Comunque Vabbè Lo smile Vabbè Sì Vabbè No Però Siccome ci rimangono pochi minuti Sono gli ultimi Gli ultimissimi Per entrare in diretta E in contatto con noi Parlare con me Fabio Oppure con Elisa E vincere 2.000 euro E' facilissimo Dai Dammi un like Uomini che sono Al di là della camera Perché a me non mi credono Dicono Sì Quello parla Ma comunque Non sarà vero Quindi dillo tu No Voglio dare un altro aiutino Però Cosa posso dire Che se indovinano questa parola Poi ve lo mando io Ve lo mando io questo Questo Quindi Abbiamo detto che è una parola dolce Abbiamo detto che sono 5 lettere Abbiamo detto che inizia con Bà Abbiamo detto che ve lo manda Elisa A questo punto Non sappiamo veramente più cosa Come aiutarvi Abbiamo dato 40.000 aiuti E sinceramente In questi casi Ti viene anche un po' L'ansia Che viene qualcuno a dire Ragazzi Stati aiutando troppo L'abbiamo praticamente detto L'abbiamo praticamente detto 899 411 454 3 899 35 45 0 06 Pronto Pronto Ancora una donna Ancora una donna Come ti chiami? Mi chiamo Irene Irene di dove? Irene ciao Ilaria Ah Ilaria di dove? Perfetto Ilaria ci devi dare la risposta Sì Penso che sia Basso Basso? Ilaria Ti dobbiamo dire che non è così Hai sbagliato E' bellissimo E' bellissimo Quando comunque Justamente Ti attaccano il telefono In questo modo Vabbè io posso capire La tristezza Tra virgolette Delle persone Che riescono a prendere la linea Che può essere anche una cosa Non facilissima Parlare con noi E magari sbagliare Con una parola Che Che non è difficilissima Valeva dire Che tu gli avresti mandato Un basso Un basso Un nomino Un basso Un nomino basso Un nomino basso Non è un basso Non è un basso Elisa potrebbe mandarvi Un'altra cosa Che sicuramente Fa molto molto